Ciao, sono Matteo Lobue, lavoro in Reale Mutua da dieci anni e mi occupo di trasformazione digitale. Che cos'è la trasformazione digitale? È quello che abbiamo cercato di fare in azienda negli ultimi anni, prima rincorrendo e poi forse diventando anche un po' pionieri nel mondo assicurativo, nelle soluzioni legate al digitale e alle tecnologie. Perché questa trasformazione non è solo tecnologia, è una profonda trasformazione culturale. Cambia proprio il modo di lavorare, il modo di interagire con le persone. Abbiamo iniziato con degli esperimenti, prima delle community, poi un social network aziendale, che è come Facebook ma all'interno dell'azienda, che consente di comunicare, esprimere opinioni, pubblicare contenuti per i tuoi colleghi. Poi abbiamo fatto il salto evolutivo, ci siamo affidati a piattaforme tecnologicamente più avanzate come Office 365 e abbiamo creato un social network aziendale completo di digital role place. Che cos'è un digital role place? È il posto, virtuale e fisico, dove lavori. Un digital role place è la mia scrivania che è possibile condividere con colleghi. Lo schermo su cui proietto le slide e scrivo mentre faccio una riunione, lo ritrovo a casa, accendendo il mio computer a casa e potendo lavorare in smart working, così come abbiamo imparato a fare sia prima della pandemia sia durante questi mesi di lockdown. Il futuro non lo conosciamo ancora ma siamo molto ben avviati perché quello che abbiamo scoperto è che la collaborazione e questi nuovi spazi, anche virtuali, ci consentono un salto evolutivo al passo coi tempi. Io mi occupo di tutto questo e cerco di fare in modo che le persone si trovino sempre meglio nell'utilizzare la tecnologia all'interno delle loro vite lavorative.